Un mese dopo gli attentati islamisti di Parigi, circa 300 tombe sono state profanate nel cimitero ebraico di Saro Nyon, del Basso Reno, in Francia. Commentando l'ennesimo atto di intolleranza nelle sagono, il premier israeliano Netanyahu ha sfoderato toni allarmanti invitando gli ebrei ad andare in Israele, tanto che il governo, in previsione di un'immigrazione di massa, ha varato un pacchetto di misure di oltre 40 milioni di euro. Ma il rabbino capo di Danimarca, Yair Melchior, ha replicato che il terrorismo non è una buona ragione per andare in Israele. Quanto a Saro Nyon, una profanazione era avvenuta già nel 2001 e prima ancora nel 1988, quando una sessantina di steli erano state abbattute.